raramente affrontiamo l'argomento della cucina toscana l'abbiamo fatto con la bistecca insomma con il semel però ecco in realtà non abbiamo mai parlato più di tanto di alcune che sono le eccellenze toscane e è il caso di parlare visto che siamo vicini alla fine dell'anno e perciò all'inizio di quello nuovo parlare appunto della soprassata o soppressata che dir si voglia che è un salume tipico toscano fiorentino ma anche del casentino per essere precisi ed è un tipo di salume particolare che veniva fatto all'inizio dell'anno perché quando si ammazzava il maiale nelle campagne si faceva e si preparava perché però soltanto all'inizio dell'anno beh perché la soprassata o soppressata appunto ha questa caratteristica il fatto di durare molto poco cioè non può essere mantenuta troppo a lungo se non attraverso dei procedimenti chimici che ne snaturerebbero le caratteristiche o che ne snaturano perché in realtà si trova una specie di soprassata un po durante tutto l'anno ancora oggi ma se si vuole gustare una soprassata veramente originale bisogna prenderla all'inizio dell'anno perché è il periodo in cui viene prodotta come si fa la soprassata bene la soprassata è fatta con quelli scarti fra virgolette di del maiale che sono la testa la cotenna la lingua che viene fatta bollire in acqua per circa quattro ore dopodiché si lasciano raffreddare e poi si tritano grossolanamente in maniera molto appunto grossa unendo una serie di spezie tra le quali il rosmarino il pepe l'aglio e la scorza di limone o la scorza di arancio eventualmente anche del prezzemolo bene questo era il sistema tradizionale dopodiché il tutto veniva inserito in una sacca naturale di budello e messo e posto fra due assi e schiacciatasi infatti la soprassata originale era bassa era bassa e larga e oggi come oggi invece quelle che si trovano che però non sono più quelle appunto originali di una volta come dicevo poc'anzi sono invece rotonde come una mortadella e questa è ovviamente una è uno snaturare quella che era l'origine della soprassata se vi capita di trovare ancora qualche macellaio che la produce in maniera artigianale beh assaggiatela perché la soprassata è una è uno forse dei salumi più interessanti che ci sia nella nostra toscana considerate che per riconoscere la soprassata industriale da quella invece prodotta in maniera artigianale il trucco è questo se voi vedete una soprassata che è rosa bella rosa che mantiene un colorito rosa quella è sicuramente fatta con addittivi vari e conservanti che le permettono di mantenere il colore se invece vedete che è grigiastra bene quella è prodotta artigianalmente ed essendo prodotta artigianalmente è ovviamente un sapore e un aroma un profumo che non ha uguali si può mangiare semplicemente con il pane con un pane toscano magari fresco e pane casalingo intendo ovviamente toscano fresco e oppure fatta a dadini per esempio nell'insalata o semplicemente una dadolata di soppressata dove incurrerete di aggiungere dei pezzettini di scorza di limone curando di aggiungere soltanto la parte gialla ovviamente e non il bianco che è la pectina che sarebbe e renderebbe il tutto amaro buon appetito